Allora qui abbiamo un debuttante che puoi chiedere come è andata visto che ha il debutto Allora, Riccola, Arduini, Alberto e Imerai, no no fallo tu Marino Allora ragazzi per essere un debutto come è andata? Direi molto bene, non ci aspettavamo neanche ad arrivare in fondo, abbiamo fatto 99 km con qualche rischio Però ci siamo arrivati in fondo, siamo terzi e quindi meglio di questi secondo me lo potevamo Vi abbiamo parlato prima Fausto di equipaggi giovani ma questi sono giovanissimi, intanto proseguiamo Quanti anni? 29 29 29 21 Si vede che lui è più vecchio dell'altro Bene ragazzi, foto ricordo anche per voi e poi vi lasciamo andare via Un ottimo esordio, un ottimo debutto per loro Pippaggio numero 59 Abbiamo detto, se ricordo bene vengono da Cioè adesso loro se ne vanno e andate via anche voi, rimanevamo da soli Vengono da Montecavolo loro se ricordo bene, giusto? Montecavolo Ciao ragazzi Ciao ragazzi, Nicola, Nicola, Sarduini e Alberto Imerai, Imerai, perfetto Perfetto con la loro bella, bellissima Citroen Saxo della Publi Race Un bel 16 valvole, si è spenta nella partenza ma sulle prove è andata veramente molto forte Equipaggio numero 70 Valentini e Luca Bellini, Citroen Grazie a tutti Grazie a tutti